Allora, partiamo dal dato che colui che guadagna in questa operazione si chiama Mario Draghi e il suo governo di conseguenza. Noi abbiamo dei dati diversi per il trend, ma seguono lo stesso trend di Pagnoncelli. Il dato invece sui partiti bisogna saperlo leggere molto bene. Tutti questi tre partiti sono molto vicini. I sondaggi con mille casi hanno il 3% di errore. Se non erro negli astensioni, qui abbiamo il 38,8%, vuol dire che sono rimaste 600 interviste. Quindi l'errore sale al 4%. Allora, questo vuol dire che questi tre partiti sono alla pari. Che cosa ci si legge? Ci si legge una cosa importante, che non c'è un partito che scatta in avanti, non c'è un leader. C'è il desiderio di avere un leader, c'è il desiderio di avere politica. E non sapendo verso chi indirizzarsi, si muovono a ventaglio verso quelli che sono i punti di riferimento che hanno più vicino nella storia della famiglia, nel valore della famiglia. Perché questo ci dice questo sondaggio, che questi tre partiti, perché il Fratelli d'Italia non è un partito di governo, eppure sta crescendo notevolmente. Quindi questi tre partiti sono vicini e stanno lottando per ovviamente il primato. Ma comunque, come ho detto prima, non si vota, quindi è ancora tutto da giocare. Ma quello che...